Cominciamo con l'emozione, che era visibile. Draghi ha sentito quel momento nel Senato della Repubblica come il più importante della sua vita. Ed è anche inciampato sui numeri, lui, uomo dei numeri. Il suo governo non ha bisogno di aggettivi, è il governo del Paese, ha detto. Unità oggi non è un'opzione, è un dovere, il dovere della cittadinanza. Il discorso con il quale il Presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia è stato uno sguardo ambizioso sul futuro come mai ne avevamo ascoltati. Ha messo al centro l'urgenza di aiutare chi soffre, il rispetto delle prossime generazioni, il ruolo della donna in una società avanzata, la tutela dell'ambiente. Ha detto qua e là qualche verità scomoda, come per esempio il fatto che non sarà possibile salvare tutte le attività economiche in crisi. Si è ben guardato dal toccare argomenti divisivi sulle tasse e sull'immigrazione. Il più tecnico dei premier ha fatto un discorso di grande abilità politica, ben conscio che non sarà facile mantenere l'equilibrio di una coalizione che vive perennemente in campagna elettorale. Il suo è stato un discorso di buon senso, il buon senso di un capofamiglia che ha a cuore il destino della comunità in cui vive e già questa è Aria Fresca.